come va? sei contenta? anch'io? c'è una foto? come ti chiamo? chiara chiariamo questa cosa come si sbrocca il telefono? con questo facciamo? guarda lei lui del channel ecco qua grazie che mi senti è a soppire se non la arrabbiamo, la portiamo via? no, volevo ringraziare, se non mi potete dire grazie? si, si, mi diamo di foto vuoi fare un video alla mia maestra che ti vuole salutare? come si chiama? Eliana ciao Eliana, un saluto da me e da Khan, ciao canna mi senti? si io ti ringrazio, sono la mamma di Chiara grazie, puoi venire? no, non so se posso venire venga, venga come facciamo? scusami, io ti ringrazio ti dico grazie perché hai realizzato un sogno per la mia bimba a chi lo dedico questo? ma non lo so, a chi lo guarda? a te? ok, a Chiara e poi ci dai il tuo cellulare e ti inviamo il video di quando lui hai aperto la porta ah ok, non l'avete fatta col suo, non l'avete fatta col suo? no, il video è andato fuori, l'ho fatta col suo ti volevo dire un altro? per chi era? per la maestra? come si chiama la maestra? allora, fatta la foto? no, così lo abbracciai abbraccialo abbraccialo quando ti ricapita? vuoi abbracciare? aspetta che vieni partito, adesso gli voglio dare un altro bacino vai dai un altro bacino, dai questa non la possiamo fare è natale tutti i giorni a questo punto mi metto pure io vai cambia però io grazie, sei stato veramente gentilissimo ciao Chiara sei stato sei una oltre ad essere un attore bravo a lei mi piaci perché sei una persona umila grazie io ti auguro tutto il bene del mondo perché sono una mamma e da mamma ti auguro di avere un futuro grandioso perché sei una persona speciale saluta Chiara ciao ciao, grazie andiamo ciao 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 ciao